Anticipare i difensori in area di rigore è da sempre una delle sue qualità principali. Una dote naturale, messa in evidenza pure nell'ultimo campionato in cui ha realizzato 19 reti. Cosimo Patierno, bomber di razza di 32 anni, da ieri è virtualmente un calciatore dell'Avellino dopo che la società Bianco Verde ha trovato l'intesa con la Virtus Franca Villa. Circo 80.000 euro la cifra versata nelle casse della società pugliese. A Patierno invece spetterà un lauto biennale con il terzo anno che scatterà automaticamente alla ventesima presenza. Per l'annuncio ufficiale però mancano ancora due passaggi, visita a Villa Stewart e firma ad Avellino. La prima tappa, giocando anche in questo caso di anticipo, l'ha bruciata in mattinata all'alba partendo alle 5 dalla sua Bitonto e raggiungendo Roma poco dopo le 8.30. La seconda dirottandosi verso l'Irpinia per l'atteso autografo sul contratto e foto di rito che sarà legata al comunicato ufficiale del club. Trasferimento a titolo definitivo è anche la formula con cui è arrivato Felice D'Amico, classe 2000 con tre gol nell'ultimo campionato alla Prosesto. In questo caso la Sampdoria, che ne deteneva il cartellino, si è riservata il 30% sulla futura rivendita. Sul fronte portiere da Brescia, ma in realtà Perinetti lo conosce molto prima dell'avventura in Lombardia, danno per certo l'interessamento per Lorenzo Andrenacci, che ha collezionato 26 presenze con le rondinelle nella scorsa stagione e ha vestito le maglie anche di Genova e Como. A proposito di Como, si segue anche in questo caso Simone Guidotti, classe 2000, 18 presenze in B lo scorso campionato con i Lombardi, fino a gennaio, quando poi l'ex Gomis gli ha tolto il posto. Altro profilo monitorato è quello di Jacopo Furlan del Perugia. Per il terzo portiere, invece, si punterà su Valerio Buffelli, classe 2004, proveniente dal Napoli Primavera. Capitolo cessioni. La novità della giornata riguarda Vincenzo Plescia, chiesto espressamente da Ivan Tisci al DS di Toro dell'audace Cerignola. La trattativa con l'Avellino è ben avviata. Per Casarini l'ipotesi più accreditata è quella di un ritorno al Novara o di uno sbarco a Mantova. Murano appare destinato al Picerno, nonostante il rilancio del Mantova. Franco rimarrà con la Turris e Micoschi ritroverà Capuano a Taranto, nonostante si sia fatto avanti anche il Sorrento, che ha chiesto Marcone e Rizzo. Il terzino, però, ha già fatto sapere che non accetterà. Infine, Tuncara, Giorgio Perinetti, sta facendo di tutto per sistemarlo altrove. Dopo averci provato in Spagna, lo ha offerto al Torpedo Mosca dell'amico Cloté, ex allenatore del Brescia.